Sindaco Valenti, come considera la decisione, probabilmente ispirata dal Comitato Tecnico Scientifico, di questo slittamento di tre giorni sul rientro a scuola deciso dal Governo regionale? Certamente prendere un po' di tempo e provare ad organizzarsi, credo che il senso sia questo. Ci si è resi conto che la situazione non è assolutamente quella che abbiamo dai report e dagli elenchi che ci vengono trasmessi, che c'è una pressione notevolissima sul sistema sanitario, che c'è una situazione quindi che è veramente grave e perciò io penso che sul fronte scuola, tenuto conto che noi sindaci siamo, eravamo, siamo pronti a sospendere comunque le attività didattiche in presenza, credo che il Governo regionale abbia voluto prendere qualche giorno di tempo per poter organizzarsi e soprattutto per prendere atto della situazione e capire cosa accadrà nelle prossime ore. Non è superfluo evidenziare che tre giorni passano presto, di conseguenza bisognerà fare qualcosa nel frattempo, che ne pensa? Non c'è dubbio perché quello che diciamo oggi lo riproponiamo già mercoledì, tre giorni sono un lasso di tempo brevissimo, in questi tre giorni è evidente che il Governo regionale deve fare veramente tanto, perché tutto quello di cui abbiamo parlato in queste ultime ore è un problema, questo problema deve essere affrontato e soprattutto deve essere capito in questi tre giorni della prossima settimana nella considerazione che mercoledì si riproporrà il problema. Ricordiamo che prima che arrivasse la notizia del rinvio della riapertura della scuola, i sindaci dei comuni aderenti a Lancia avevano convocato una riunione proprio per oggi pomeriggio, riunione che c'è stata lo stesso, ma cosa avete deciso? È logico che in questo momento noi sindaci non adotteremo alcuna ordinanza, la bozza è già pronta in realtà, ma non verrà conservata nel cassetto, speriamo che non sia necessaria l'adozione e ci aggiorneremo a mercoledì, martedì, mercoledì, per poter decidere e soprattutto per poter capire che cosa il Governo nazionale e il Governo regionale hanno deciso in questi giorni.